Oh, Windows Defender, Windows Defender. Il programma che fino veramente poco tempo fa, due o tre anni fa, non era veramente niente di che. Fino a prima che uscisse Windows 11 era veramente un antivirus molto molto scarso. Però poi, con il rilascio di Windows 11, Defender è cambiato. È diventato un'altra persona, non è una persona, però vabbè avete capito il senso. È diventato comunque un altro antivirus ed è diventato un altro antivirus veramente molto molto valido. È diventato un antivirus che secondo AV-Test e AV-Comparatives è diventato al pari, se non addirittura migliore, di molte alternative addirittura a pagamento. Rimane comunque un antivirus che ha veramente pochissime funzioni. Magari fa quello che deve fare e lo fa anche bene. Però per quanto riguarda magari l'alternativa a pagamento, hanno anche la protezione dei dati bancari, la protezione della webcam, del microfono e molte altre features. Magari un firewall che funziona meglio che Windows Defender appunto non ha. Però magari per il computer casalingo, usato solo per navigare in rete, Defender può effettivamente essere una buona alternativa. Magari per chi ha il computer dedicato a cose molto basilari, non vuole comprare un antivirus. Defender può fare il suo lavoro, può essere comunque una buona alternativa. Se vogliamo potenziarlo, però se vogliamo renderlo ancora migliore, possiamo scaricare questo programmino, diciamo così, che si chiama Defender UI. Defender UI di per sé non è un antivirus. Si basa su Defender, quindi comunque per usarlo Defender deve essere abilitato. L'unica cosa che fa è aggiungere un'interfaccia migliore, aggiungere un'interfaccia con più opzioni, che comunque raggruppa le impostazioni, che comunque ci permette in modo più semplice di abilitare cose che sull'interfaccia standard di Defender sono disabilitate o comunque non sono visibili. Lo possiamo scaricare dal sito, quindi clicchiamo qui, lo andiamo ad installare e ce lo ritroviamo così com'è. Di default è impostato in un modo, poi voi potete andarvelo a personalizzare. Abbiamo la possibilità, cliccando su questa I, di selezionare un profilo, cosa che però io non ho fatto, ho semplicemente da qui modificato le varie impostazioni. Adesso ve ne parlo. Possiamo, dalla schermata Home, quindi la schermata, diciamo così, più basilare possibile, andare ad abilitare la protezione in tempo reale, la protezione Cloud Delivered e il Windows Firewall, il Firewall appunto. Qui possiamo andare a selezionare un tipo di scan, quindi fare appunto la scansione del sistema usando Defender. Qui possiamo aggiungere le esclusioni per quanto riguarda Windows Defender. La lingua, scegliere se eseguire appunto Defender UI all'avvio. Qui possiamo andare ad impostare la trasparenza di default, se non ricordo male, intorno all'80, qualcosa del genere. Io l'ho messo a 100 perché altrimenti è brutta da vedere come interfaccia, non mi piace. Invece così, bella opaca, mi piace molto molto di più. E poi abbiamo Prevent Malware from Ever Infecting This System, che non ho abilitato perché se andiamo a cliccare questa I, lui ci spiega praticamente cosa fa e ci dice che è fatta solo praticamente per intrattenimento. Bisognerebbe andare a vedere qui cosa dicono, ci dicono di andare a vedere lì se comunque vogliamo abilitarla, ma io non l'ho fatto perché comunque fare in modo che un sistema non venga mai infettato ovviamente è impossibile. Anche con il migliore antivirus comunque se andiamo in siti strani e scarichiamo cose a caso possiamo rischiare effettivamente di venire infetti. Quindi non c'è un antivirus che al 100% blocca il malware. Ovviamente il sistema più sicuro è quello spento, non connesso di internet, buttato in un oceano e forse ancora ancora potrebbero esserci delle possibilità che venga infettato. Comunque a parte gli scherzi abbiamo poi la schermata basic, abbiamo sempre l'AI, quindi possiamo cliccare, potete cliccare e vi va a spiegare le varie cose cosa sono. Per quanto riguarda Controlled Folder Assess io non l'ho attivato e vi consiglio di non farlo perché può creare dei problemi ai programmi. Praticamente questa funzione va a bloccare la scrittura da parte dei programmi delle directory utente come ad esempio download, documenti e quelle cose lì. Però va da sé che può creare dei problemi perché magari voglio scaricare un qualcosa, una fotografia, dico a caso, usando il browser e mi dà errore e non riesce a scaricarlo perché appunto c'è questa cosa che gli impedisce di scrivere in quella directory. Quindi appunto vi consiglio di non attivarlo. Poi abbiamo la schermata advanced, la schermata un po' più diciamo così avanzata in cui possiamo scegliere se scansionare le email, scansionare quello che viene scaricato eccetera eccetera. Come sempre abbiamo comunque l'AI. Queste opzioni qui sarebbero disponibili se disattivassimo il tamper protection. che io non faccio perché il tamper protection praticamente è ciò che fa in modo che un malware non possa disabilitare Defender perché il problema era questo. Defender era molto facilmente disattivabile e i malware lo disattivavano quindi poi alla fine è come se il sistema non avesse avuto alcun antivirus. È stata aggiunta questa protezione che dovrebbe fare in modo che i malware non abbiano questa possibilità. Per andare a modificare queste cose qui dobbiamo disattivare quella protezione lì ma io sinceramente non lo farei. Poi abbiamo le regole ASR, Attack Surface Reduction, quindi riduzione della superficie di attacco. Se cliccate questa AI vi manda praticamente nella pagina Microsoft in cui viene spiegato in modo molto molto preciso ognuna di queste cose cos'è. Quindi mettendomi lì ci avrò messo un'ora, un'ora e qualcosa a leggermi tutte queste cose, cosa facessero, ho capito cosa volevo abilitare, cosa non volevo abilitare, cosa volevo magari semplicemente che mi avvisasse senza bloccarlo o abilitarlo appunto in automatico. E poi infine la scheda Defender Guard che fa in modo appunto che i malware non possano andare a disabilitare Defender l'antivirus. Quindi tecnicamente se disattiviamo la protezione tamper, se vogliamo appunto andare a modificare queste cose qui, non dovremmo comunque avere problemi perché c'è Defender Guard che ci protegge da questo punto di vista. Però rimane il fatto che comunque sinceramente non disattiverei una protezione così importante. Quindi questo è un po' un overview veloce di Defender UI. Niente di troppo approfondito, una semplice infarinatura generale, posso dire che secondo me, per dire la mia, se avete un computer che usate per fare transazioni bancari e quelle cose lì magari meglio non usare Defender per il momento. Poi magari in futuro migliorerà ancora però per il momento secondo me le alternative a pagamento sono ancora un pelettino avanti. Quindi non darò nomi, fatevi le vostre ricerche, io ho sempre usato Asset però non vi dirò Bid Defender è meglio di Asset oppure Asset è meglio di un'altra cosa ancora, io ho più di tanto di antivirus, non me ne intendo. Quindi fatevi un po' di ricerche se non sapete quale antivirus a pagamento scegliere. Mentre se avete un computer che usate per fare cose normali, navigare in rete, scrivere documenti, questo genere di cose, Windows Defender va più che bene e Defender UI non vi serve. Se invece avete un computer che usate anche per cose un po' più sensibili però niente di troppo particolare, magari può valer la pena, usare Defender e Defender UI che lo va un po' a potenziare. Lo va un po' a punto, vi sblocca le impostazioni segrete, diciamo così, ve le raggruppa più che altro per fare in modo che sia più semplice andarlo appunto a gestire come meglio preferiamo. Detto questo scrivetemi nei commenti cosa ne pensate a riguardo, scrivetemi se voi usate Defender, se non lo usate, cosa ne pensate di Defender e in generale un po' quella che è la vostra idea anche su Defender UI e tutto quello che in generale ho spiegato qui. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!